Ciao, anime resistenti. Noi siamo anime resistenti. È il progetto sull'antifascismo che abbiamo realizzato a Bari per rilanciare le figure storiche della resistenza e dell'antifascismo barese, per cui è nato il primo podcast messo a disposizione di tutta la comunità e delle scuole. Io vengo da una terra dove i valori dell'antifascismo, dell'accoglienza, della solidarietà, della giustizia sociale, dell'integrazione, del prendersi cura dell'altro, sono profondamente radicati nella coscienza collettiva. Ho l'onore di essere stata eletta a guidare la stessa Camera del Lavoro che nel 1922, insieme con quella di Parma, ha respinto l'attacco degli squadristi fascisti. Vivo in una città, Bari, che nel 1991 ha accolto oltre 20.000 profughi albanesi che a bordo della nave Vlora fuggivano dalla povertà e dalla dittatura e trovarono a Bari accoglienza e solidarietà. Noi siamo gli eredi di Giuseppe di Vittorio, di Rita Maierotti, di Peppino Di Vagno, dei grandi sindacalisti e di tutti gli antifascisti che hanno lottato e spesso pagato con la loro vita per difendere gli ideali di libertà, di giustizia e di democrazia. E in quanto eredi, oggi come allora, subiamo gli attacchi alle nostre sedi e le minacce ai nostri dirigenti, perché siamo sempre quelli. Un presidio di democrazia è un baluardo contro le ingiustizie sociali ed economiche. Ecco perché chiediamo con forza la chiusura di tutte le organizzazioni di matrice fascista. Negli ultimi dieci anni, solo per definire un periodo temporale, abbiamo subito attacchi da tutte le direzioni. Anzi, gli attacchi più duri sono arrivati proprio dal fuoco amico, da quella parte politica, da quel vecchio Partito Democratico che con la riforma del Jobs Act e con la riforma del titolo V ha cancellato decenni di storia, di tradizioni e di conquiste sindacali. Noi non abbiamo mai mollato, e di questo io ringrazio il segretario nazionale Maurizio Landini, tutto il gruppo dirigente nazionale e territoriale che con impegno costante, idee, proposte, confronto, ha consentito di confermare la nostra organizzazione come un'organizzazione con oltre 5 milioni di iscritti. Lo ha detto anche il segretario generale nella relazione, 5 milioni di persone che ogni giorno e volontariamente scelgono di aderire alla nostra organizzazione. E così, mentre nel Paese il primo partito è diventato quello dell'astenzionismo, le nostre Camere del lavoro, le nostre Camere del lavoro comunali sono ogni giorno sempre più affollate di persone e sono spazio di condivisione importante con le associazioni democratiche presenti nei territori. Penso all'AMPI, penso al sindacato studentesco. È il modello nostro di sindacato di strada e di sindacato di prossimità. Quanti sono in grado di contare, di poter contare su un patrimonio così importante, su un patrimonio umano così importante? Quanti sono in grado di celebrare un congresso che è partito dal basso con le assemblee nei territori, nei luoghi di lavoro, fino ad arrivare fin qui. Però, compagni e compagni, noi sappiamo bene che non è tutto rosa e fiori. Se da una parte il nostro modello organizzativo si conferma vincente, quello di prossimità, quello di strada, dall'altra sappiamo bene ed è evidente la sofferenza organizzativa che i territori da tempo sono chiamati a fronteggiare. Il contesto lo conosciamo tutti, crisi economica, pandemia, guerra, inflazione a dofia cifra, salari bloccati, garanzie troppo fragili. Ma mi chiedo, siamo solo noi in grado di guardare tutto questo. Se le famiglie sono arrivate a vendersi le collanine d'oro della prima comunione dei propri figli, non è certo per andarsi a fare la settimana bianca. E allora, in questo quadro, il Governo che fa? Risponde smontando l'Uelfar, tagliando i servizi, bloccando salari e pensioni, ignora i lavoratori e soprattutto divide l'Italia e vara il mostro dell'autonomia differenziata. Noi continueremo quella lotta. Con chi ci vorrà stare e con chi ci vorrà stare senza tentennamenti, l'autonomia differenziata va affermata. Presidente Meloni, l'unità nazionale si garantisce unendo il Paese e non dividendolo. E allora è il lavoro il tema centrale. Il lavoro deve tornare nell'agenda politica. Ma non basta. Dobbiamo cambiare anche noi. Dobbiamo riuscire a cogliere le sfide del nuovo modello di sviluppo. L'equazione è semplice. Nuovo modello di sviluppo, nuovo modello di lavoro. È dentro questa equazione che si determina il ruolo strategico e fondamentale del sindacato confederale per riuscire a cogliere le sfide che il modello di sviluppo ci mette davanti. E le sfide sono rendere quel modello di sviluppo compatibile con l'ambiente, con i diritti, con la salute, con la sicurezza e con le città. Questo vale sia per quanto riguarda il mondo del lavoro pubblico, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro privato. E allora il nostro compito è quello di governare, governare con la contrattazione il cambiamento, non solo testimoniare il disagio, rilanciare la contrattazione di categoria, la contrattazione sociale e la contrattazione territoriale. È il nostro modello organizzativo a definire la punzione politica della Cigelle, dentro cui noi sappiamo bene che non ci potrà essere una scala di priorità tra diritti sociali e diritti del lavoro, perché non ci potrà mai essere una dignità sociale senza una dignità lavorativa. E allora dobbiamo agire nel presente, con lo sguardo dritto e aperto sul futuro, parlare ai giovani. Noi ad aprire lanceremo da Bari un progetto che ha l'hashtag e ti vengo a cercare. Cigelle, Nidil, FIOM, FLC, Filcams saranno nelle scuole, negli istituti tecnici e professionali a spiegar loro cosa è il sindacato, ma soprattutto non a parlare dei giovani, a parlare con i giovani, a dir loro dove potranno trovarci, dove sono le nostre camere del lavoro, a dir loro che uno stage non è un contratto di lavoro e a dir loro soprattutto che non si dovranno accontentare di un lavoro qualsiasi. Perché, se è vero come recita il nostro slogan, il lavoro crea il futuro, la qualità del lavoro, noi sappiamo del futuro, dipende dalla tipologia del lavoro che ti offrono, dalla qualità dell'azione sindacale, dalle scelte che le imprese fanno e soprattutto da quale governo decidi di votare. Ecco perché noi dobbiamo, in un tempo così martoriato, in cui il lavoro ha perso il suo valore, in cui il lavoro è diventato incertezza, sfiducia e a tratti morte, noi non siamo quell'esercizio democratico, noi siamo la Costituzione. Ogni scritta ed ogni scritta la CGL è la Costituzione. Noi siamo la Costituzione perché diciamo che indipendentemente da dove nasci, di che colore è la pelle, di chi scegli di amare, hai diritto ad avere un lavoro, ad essere curato, ad avere una casa e un'istruzione pubblica. Ma non basta difenderla, bisogna amarla. Per questo noi siamo la Costituzione. Grazie.